Ciao, io sono Luca e oggi aggiusteremo la lampadina e vi chiederete perché una lampadina, cioè cosa c'entra con l'astronomia? Beh, una cosa c'entra, la luce, la lampadina, ma una luce è la luce molto importante per l'astronomia. Prima di tutto abbiamo dovuto trovare qual era il led rotto e dopo un po' l'abbiamo trovato perché appunto aveva un puntino nero e abbiamo capito che era rotto. Allora invece dovevamo sostituire il led però non l'abbiamo trovato e non ce l'avevamo quindi abbiamo deciso di fare un ponte, quindi estrarlo come se fosse un dente e farci un ponte con dello stagno. Il problema, c'è stato anche un altro problema, che queste saldature non erano delle saldature a stagno ed erano delle saldature ad ultrasuoni, quindi avevamo paura che questo ponticello non avrebbe funzionato. Ma in realtà ha funzionato, però dei problemi ci sono stati, ci sono. Il primo problema principale è la sicurezza di questa lampadina, che non è molto sicura rispetto a prenderne una nuova. La seconda è che durerà molto di meno avendo fatto un ponte e non avendo sostituito il led. Ma perché abbiamo voluto provare a sostituire, a far funzionare di nuovo questi led? Beh, semplicemente perché ogni anno in tutto il mondo vengono buttati circa 50 milioni di tonnellate di prodotti RAE, che sono tantissimi. Ma perché? Perché ormai è più facile sostituire che riparare. Però molte cose si possono effettivamente riparare, ad esempio le lampadine, se fossero costruite in maniera più facile da riparare, magari riusciremo a riparare tutte le lampadine e durerebbero molto di più. Solo che non conviene. Quando abbiamo provato ad accendere la luce abbiamo visto che la lampadina si è illuminata subito. Ma come mai? Beh, oggi per rispondere a questa domanda abbiamo chiamato un inviato, che già l'anno scorso è venuto nella prima puntata di Senso Raffaino. E quindi diamo un caloroso saluto a Bon Giovanni. Buongiorno. Allora, la luce. Cos'è la luce? La luce è una radiazione elettromagnetica. Come tutte le radiazioni elettromagnetiche hanno un andamento sinusoidale, ovvero ondulatorio. dipende, il Sole ci, con le sue esplosioni nucleari, di diffusione, ci investe con quantitative norme di onde elettromagnetiche, di radiazioni elettromagnetiche, che hanno delle dimensioni varie, da quelle di alcuni metri come di lunghezza d'onda a quelle microscopiche di qualche miliardesimo di metro. Le onde elettromagnetiche hanno delle caratteristiche sostanzialmente differenti. Le onde, diciamo, quelle che hanno una lunghezza d'onda sul vetro e così via, vengono chiamate onde radio. Sono molto grandi e servono, appunto, per trasmettere musica, televisione, cellulari e così via. Abbiamo le onde che vengono, che noi invece definiamo come luce, hanno una caratteristica ben particolare, vanno dai 400 ai 700 nanometri. Tanto per dire, sono dell'ordine di grandezza di un batterio, di un virus, quindi sono molto piccole, come lunghezza d'onda, e il nostro organo dell'occhio riesce a vederle, nel senso che ha sviluppato delle capacità e riesce a vedere queste radiazioni, distinguendo anche addirittura i colori. Quindi abbiamo il rosso, che sono delle onde elettromagnetiche, che hanno delle radiazioni elettromagnetiche, che sono molto più vicine di 700 nanometri, mentre i colori blu e viola sono più vicini all'altra parte, quindi verso i 400 nanometri, sono un periodo più piccole. Prima della radiazione, che noi classifichiamo luce, quindi con delle lunghezze d'onda maggiori, di 700 nanometri, abbiamo quelli che vengono chiamati infrarossi. Gli infrarossi sono... Noi non la vediamo come radiazione, o almeno noi da soli. In realtà, col tempo, abbiamo sviluppato dei visori notturni, che permettono di verificare, di vedere proprio la luce infrarossa che emette il nostro, la Terra, durante la sera. Alla sera, quando non è più, o meglio, dalla parte in cui non è affacciata al sole, e quindi di notte, la nostra Terra emette una parte della radiazione che ha assorbito come luce di giorno, la emette sotto forma di raggi infrarossi. Ci sono degli animali che riescono a farlo, ad esempio il serpente a sonagli, e ha una specie di occhio con cui riesce a vedere le sue perede anche nel buio più assoluto, sfruttando appunto la luce degli infrarossi. Non oltre la nostra componente della luce, che noi riusciamo a vedere, che di per sé è invisibile il nostro cervello, che poi definisce i vari colori, a seconda della luce e della posizione di dove viene, e della lunghezza d'onda della luce che viene illuminata. Oltre i 400, o meglio, meno di 400 nanometri, ecco che abbiamo i raggi UV, quelli che vengono chiamati UV. Abbiamo gli UVA, gli UVB e gli UVC, a seconda della lunghezza d'onda. Anche qua, gli UVA sono un po' più grandi, sono un po' più deboli, sono un po' meno pericolosi, gli UVB sono abbastanza, e sono quelli che ci permettono di abbrontarci, tanto per dire, però possono a lungo andare, provocare anche dei danni permanenti. Gli UVC sarebbero pericolosissimi. Se noi avessimo gli UVC nella Terra, ecco che saremmo morti. Per fortuna, sopra lo strato, uno degli ultimi strati della nostra atmosfera, è costituita da ozono. L'ozono, o l'ozonosfera come viene chiamata, impedisce ai raggi UVC e alle microonde più piccole della luce di penetrare attraverso la nostra atmosfera, tra virgolette proteggendoci. Si fa come da scudo. Tanto per dire, gli UVC vengono utilizzati per, ad esempio, per sterilizzare l'acqua. Mettono l'acqua, che magari ne hanno prelevato da una fonte, pulita quanto vuoi, ma sicuramente con una certa carica batterica, all'interno ci mette una lampadina che emette la luce UVC e quest'acqua diventa sterile dopo pochissimo tempo, solo grazie ai raggi UVC. Oltre a questo abbiamo le microonde e poi abbiamo i raggi gamma, alfa, beta e gamma, che sono i più pericolosi. Come abbiamo capito, più la lunghezza d'onda, meno è grande la lunghezza d'onda della nostra radiazione elettromagnetica, più la nostra radiazione elettromagnetica è pericolosa e può farci del male. Nel ventesimo secolo, quindi nel secolo scorso, Einstein, Planck e altri fisici teorizzarono prima e poi riuscivano a dimostrare che la luce, oltre ad avere un comportamento elettromagnetico, quindi ondulatorio, si comportava esattamente come se fosse una particella. E' richiamata appunto dualità delle radiazioni elettromagnetiche. Questa, quindi, era come se al posto di avere un'onda elettromagnetica, o meglio, che si comportasse come un'onda elettromagnetica, c'era una particella che non aveva massa, non aveva massa come ad esempio ha un neutrone che è dotato di massa, non aveva carica elettrica, come ad esempio l'elettrone che ha una carica elettrica, anche una massa dell'elettrone molto piccola, ma una carica elettrica, però era dotato di energia. Questa particella venne chiamata fotone. Il fotone dipende, l'energia del fotone, dipende sostanzialmente dalla sua lunghezza d'onda. In pratica, se noi moltiplichiamo la frequenza con cui si muove il fotone per la lunghezza d'onda, abbiamo la sua velocità. La sua velocità è, per ogni particella, le reazioni elettromagnetiche, da quella onde radio fino ai raggi gamma è sempre uguale. Nel vuoto è pari a 300 milioni di metri al secondo. Questa è la chiamata la velocità della luce. Quindi la frequenza e la lunghezza d'onda sono correllate. Più è frequente, più piccola sarà la lunghezza d'onda. Ed ora è finita la prima parte del video. Per vedere la seconda parte bisogna aspettare la prossima settimana. Mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina e mettete un bel mi piace. E noi ci vediamo la prossima settimana qui e qui su questo canale. Ciao!